Da giovedì 25 aprile a domenica 28 aprile saranno aperte in via straordinaria le dimore storiche del Lazio. La regione ha infatti la volontà di ricostruire un modello di sviluppo del territorio che faccia della bellezza e anche del buon vino e del buon cibo. Uno dei pilastri di benessere, crescita e lavoro, ha dichiarato il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. Non esiste angolo del pianeta come il Lazio con la stessa concentrazione di beni. Non c'è infatti solo Roma, ma anche tutte le bellissime province che fanno parte della regione. Il Lazio è sempre più la regione dell'eterna scoperta. Dopo il grande successo della prima giornata di apertura delle dimore storiche del Lazio, programmata lo scorso anno e che ha raccolto oltre 10.000 visitatori, la regione Lazio ha ideato una nuova iniziativa in programma appunto dal 25 al 28 di aprile per dare a tutti l'opportunità di visitare l'immenso patrimonio di dimore, ville, parchi e giardini storici del territorio. Quattro giornate di apertura straordinaria e gratuita con un ricco programma di spettacoli e percorsi di scoperta delle tipicità enogastronomiche del territorio.